Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6. Apriamo ovviamente con la politica, il 25 settembre gli italiani torneranno al voto per le elezioni politiche, a seguito delle modifiche costituzionali ci sarà un taglio dei parlamentari da 945 a 600 seggi, anche per l'Abruzzo ci sarà un calo della rappresentanza da 21 seggi a 13, 9 deputati e 4 senatori. Vediamo il servizio. La crisi di governo e il decreto di scioglimento delle Camere firmato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprono la strada alle elezioni anticipate fissate al 25 settembre, un periodo anomalo per una campagna elettorale che prenderà il via nel pieno dell'estate. Saranno le prime politiche che faranno i conti con il taglio dei parlamentari, i deputati scenderanno da 630 a 400, i senatori da 315 a 200. Una diminuzione che tocca ovviamente anche la circoscrizione Abruzzo. La nostra regione nelle politiche del 2018 ha espresso 21 parlamentari, 14 deputati e 7 senatori. Ora l'Abruzzo ne eleggerà 13, 9 deputati e 4 senatori. Una contrazione che renderà ancora più vehemente la lotta per spuntare nelle liste una posizione che garantisca o almeno renda plausibile una elezione a Montecitorio o a Palazzo Madama. Circa le candidature, un monito è arrivato nelle ultime ore dal consigliere regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, il quale auspica che il Presidente della Regione, Marco Marsiglio, non scende in campo per queste elezioni politiche. Marsiglio è infatti uomo di spicco di Fratelli d'Italia e il partito di Giorgia Meloni, sondaggio alla mano, è uscito rafforzato da questo periodo trascorso all'opposizione del governo Draghi. Alcuni rumors lo vorrebbero in lista, in attesa che Marsiglio, il cui mandato di governatore a naturale scadenza nel 2024, prenda posizione in tal senso, va ricordato che per i Presidenti di Regione non c'è inelegibilità in Parlamento, bensì incompatibilità e in caso di elezione dovrà scegliere entro 30 giorni se entrare in Parlamento o restare in Regione. Nel 2019, da senatore, Marsiglio si dimise dopo l'elezione a Presidente di Regione. Ricordiamo anche che la precedente consigliatura in Abruzzo fu interrotta quando, al culmine di una vicenda che si dilungò fino alla pronuncia della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Luciano D'Alfonso scelse il Senato e rassegnò le dimissioni da Presidente della Regione nell'agosto del 2018, determinando il successivo scioglimento del Consiglio regionale. Intanto, dopo la firma del decreto di ieri da parte del Capo dello Stato, è iniziato il timing delle scadenze propedeutiche al voto. Entro il 12, 13 e 14 agosto i partiti dovranno depositare al Viminale i contrassegni e simboli elettorali. Il 21 e 22 agosto sono i giorni riservati alla presentazione delle liste e dei candidati negli uffici centrali elettorali costituiti presso le corti d'appello. Dal 26 agosto l'inizio della propaganda elettorale fino al giorno del voto, domenica 25 settembre. Entro il 15 ottobre la prima seduta delle due Camere del Parlamento. Gli esponenti di Fratelli d'Italia, a differenza di quelli del centro-sinistra, sono abituati ad onorare fino alla fine il mandato elettorale ricevuto dai cittadini. Il Presidente Marsiglio non soltanto non sarà candidato alle imminenti elezioni politiche, ma sarà, come già detto, nuovamente candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo. Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, rispondendo alla nota del Consigliere di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani. E ora cambiamo pagina. Domenica 28 agosto sarà una giornata storica per l'Aquila e l'Abruzzo. Papa Francesco sarà in città per l'apertura della Porta Santa. I dettagli sono stati svelati questa mattina dal Cardinale Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi, il servizio di Stefano Recanati. L'Aquila per un giorno capitale del perdono e della pace. Il 28 agosto sarà una data storica per il capoluogo di Regione per il Giubileo Aquilano. Riconosciuta nel 2019 patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, la perdonanza celestiniana segna, con la visita del Pontefice, il suo traguardo più importante nella storia recente. Dopo la sua istituzione decretata da Celestino V, Papa Francesco è di fatto il primo Pontefice che dopo 728 anni apre la Porta Santa. Il Papa è molto determinato nel venire. Come avete visto ha fatto interventi chiari per spazzare via dal campo interpretazioni del tutto gratuite e quindi legittime, riproponendo il tema centrale di una visita pastorale segnata dall'incontro del successore di Pietro con questa chiesa, con questa città segnata da una storia alta e anche dolorosa. Prima tappa della visita nel capoluogo sarà in piazza Duomo dove farà visita in forma privata all'interno della cattedrale di San Massimo che porta ancora i segni del terremoto del 2009. Lì ci sarà l'abbraccio amorevole di Papa Francesco ai familiari delle vittime del sisma. L'ha firmato lui quel programma, quindi vuol dire che nel suo rendersi presente tra di noi la sua attenzione è sempre centrata su questo aspetto del rendersi prossimo. A bordo della Papa Mobile il Santo Padre si dirigerà alle 10 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio dove celebrerà l'Omerilia e l'Angelus, cerimonia questa che culminerà nella storica apertura della Porta Santa, il cui attraversamento concede l'indulgenza plenaria ai fedeli cristiani. L'Aquila, città del perdono, dall'Aquila può arrivare il messaggio per una pace importante nel mondo? Io ne sono sicuro, anche perché la pace non si costruirà se non si sarà capaci di rimuovere le diffidenze. Sono 2.068 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo. Sono stati diagnosticati dall'esame di 1.760 tamponi molecolari e 9.296 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 23,6%. I nuovi positivi provengono 445 dalla provincia dell'Aquila, 656 da quella di Chieti, 749 da quella di Pescara, 613 da quella di Teramo, 47 da fuori regione, mentre per 95 sono in corso verifiche. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.431 con i 5 nuovi casi odierni di età compresa tra 77 e 92 anni, uno in provincia dell'Aquila, due in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti, mentre uno è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. Nelle ultime 24 ore sono 1.807 dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi salgono a 51.707, più 793 rispetto a ieri, 266 pazienti ricoverati in area medica, meno 7 rispetto a ieri, 11 in terapia intensiva, più 3 rispetto a ieri. La Fondazione Pescara Abruzzo celebra i 30 anni dalla sua Costituzione con un programma che coinvolgerà sia la Maison des Arts sia l'Imago Museum. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. La Fondazione Pescara Abruzzo celebra i 30 anni dalla sua Costituzione con una serie di eventi e di iniziative presentate questa mattina dal Presidente Nicola Mattoscio. Alla conferenza stampa hanno preso parte, fra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Presidente della provincia di Pescara e Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e il Presidente del Tribunale Angelo Bozza. Voglio sottolineare che è un soggetto nato dal nulla, sia dal punto di vista delle risorse sulle quali poteva contare, sia come mestiere da inventare e da rendere disponibile per la comunità di riferimento. E con la legge Ciampi che si sono create le condizioni giuridiche per adottare questa sfida e realizzarla, oggi è sotto gli occhi di tutti che la Fondazione è protagonista a tutti gli effetti, dispiace dire qualche volta anche più di tante altre istituzioni che avrebbero il dovere di fare anche più di noi. E questo si vede nell'ambito della cultura, ma si vede nell'ambito della promozione, della formazione, soprattutto quella accademica specializzata ed avanguardia di rilievo internazionale. Voglio ricordare che abbiamo promosso l'ISIA, l'unico istituto accademico pubblico del centro-sud d'Italia e poi questa attività editoriale straordinaria di tanti anni che documenta il bacino della ricchezza culturale, dei beni culturali della nostra comunità di riferimento e costituisce ormai persino un archivio per le future generazioni. E soprattutto il Pescara Cityplex, l'unica esperienza in Italia e al mondo di una multiplex nell'area urbana a carattere pubblico e poi i musei, l'Imago Museum recentemente inaugurato dal Presidente della Repubblica. Presente anche il sindaco di Loreto Aprutino Gabriele Starinieri che ha ricordato come tutto nacque nel piccolo centro Vestino quando era ancora provincia di Teramo. La fondazione celebri di 30 anni, l'istituto bancario da dove poi tutto è derivato, è nato a Loreto nel 1871 dal Monte Frumentario. Persone illuminate crearono questa banca affinché assistessero i coltivatori e quindi l'impresa che già a fine 1800 nasceva. Ricordo che questa banca fu utile per la costituzione della provincia nel 1927 e quindi era l'unica banca presente sul territorio. Allora Loreto era in provincia di Teramo. Gli agenti del reparto operativo aereo navale della Guardia di Finanza di Pescara hanno sottoposto a sequestro preventivo uno stabilimento balneare di Montesilvano e hanno denunciato il titolare della concessione demaniale e il rappresentante legale della società gerente all'attività di ristorazione e balneazione responsabili in concorso di innovazioni non autorizzate ed abusi ed edilizi su aree del demanio marittimo sottoposti a vincolo sismico e paesaggistico. Il locale di 130 metri quadrati era mancante di ogni titolo autorizzativo, sanitario, demaniale, edilizio e paesaggistico e il reale utilizzo non era corrispondente alla destinazione d'uso. Al primo accesso nella struttura i finanziari hanno anche riscontrato la presenza di un lavoratore in nero, peraltro percettore di reddito di cittadinanza. L'impresa è stata segnalata all'ITL e al datore di lavoro. Sono state erogate sanzioni che superano i 6.800 euro. Da oggi sarà più semplice consultare online la sezione urbanistica sul sito internet del comune di Chieti, una innovazione che semplificherà una serie di azioni velocizzate dalla rete senza bisogno di andare fisicamente in comune. Selenia Secondi. Semplificata la consultazione delle procedure per l'acquisizione di documenti tecnici grazie alla riorganizzazione della sessione del sito comunale di Chieti dedicato all'urbanistica e all'edilizia privata. Questa utile innovazione, che consentirà una più facile consultazione della sezione, la si deve al Terzo Settore Sviluppo del Territorio, diretta da Carlo De Gregorio. Da oggi sarà possibile consultare online i piani urbanistici, le normative tecniche, i regolamenti vigenti pubblicati e altre informazioni utili per la presentazione delle pratiche edilizie e per i progetti messi in campo dall'amministrazione comunale. Io direi che è stato creato più che aggiornato. In fin dei condi finora il settore urbanistico contava per i cittadini e per coloro che ci si affacciavano su materiale cartaceo. Adesso siamo riusciti a creare un sistema informatico veramente veloce per chi lo ha già provato, per cui pur nel concetto di carenza di personale che abbiamo in tutti i settori e in particolare proprio al settore urbanistica potremo essere alla pari di comuni che stanno più avanti di noi da un punto di vista della digitalizzazione. Devo ringraziare sempre la mia assessora Mara Maretti che si è dedicata a questo settore anima e corpo. Stiamo rivoluzionando nel vero senso della parola i nostri uffici. Critiche sono arrivate oggi dai consiglieri comunali di centro-sinistra al comune di Pescara sul Pescara Liberty Festival. Vediamo il servizio. Diacovo, perché queste critiche del centro-sinistra al Pescara Liberty Festival? Perché è stata decapitata tutta la scena e la vita culturale di questa città, prosciugando le energie alle principali istituzioni culturali di Pescara, associazioni, eventi, festival. Basti pensare che il Museo Gentile d'Abruzzo, che ha richiesto circa 300 mila euro per poter avere attività ordinarie, ne ha ricevuto neanche un terzo. Il flauto, i fondi dimezzati nel suo ventennale. Quindi il Rocket cancellato. Ciononostante, e tutte queste risorse prosciugate dal mondo della cultura, vengono a convergere in questo attesissimo Festival Liberty, che è un programma debolissimo. Sette giornate, sette concerti per una cifra di circa 120 mila euro, quasi 20 mila euro al giorno. Per un festival che ci aspettavamo fosse qualcosa di grande, interessante, di coinvolgente per la città, invece non può neanche avere un minimo di richiamo turistico, perché hanno annunciato quattro giorni prima che iniziasse il festival, quindi senza poter prevedere nessun tipo di partecipazione come quella chiamata in caso. Un festival con un programma debole, ma per noi ogni euro speso in cultura è comunque una buona cosa, anche se qui il budget è assolutamente più grande secondo me dell'offerta culturale che offre. Ma in cambio di questo piccolo festival hanno cancellato, azzerato, dicapito tutte le possibilità alla scena vita culturale di una città e questa cosa per noi è molto grave. Avete chiesto un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, con la Giunta? Assolutamente sì, ci vediamo anche nella Commissione di Controllo e Vigilanza che presediamo io e Piero Giampietro per capire come sia stato possibile spegnere un'intera vita culturale di una città per far convergere tutto su un festival di pochi giorni e sicuramente di un non di alto profilo. A Ripattoni di Bellante torna da domani al 31 luglio la rassegna Ripattoni Arte, tante le esposizioni e gli eventi che caratterizzeranno questa sedicesima edizione il cui tema principale sarà le origini della creatività. Vediamo. Nel solco della tradizione recente seguiamo un percorso che ogni anno decliniamo secondo quelle che sono le attualità o comunque i richiami della curiosità che poi cerchiamo di ribaltare sulle scelte e sugli orientamenti che diamo alla manifestazione. Siamo un esempio, credevamo almeno di essere un esempio di come il territorio e il talento non esclusivamente del territorio ma generalmente dedicato agli artisti della nostra provincia e della nostra regione in primo luogo ci consente di fare una operazione culturalmente molto complicata però sempre attenta alle contaminazioni, attenta come quest'anno anche, ma lo è stato anche negli anni recenti, alla comunicazione, alla digitalizzazione, al mondo delle tecnologie informatiche. Il programma propone una serie di allestimenti molto belli, interessanti che invitiamo tutti a visitare con artisti che abbiamo scelto anche in funzione del tema ovviamente ma molto rappresentativi, Massimo Piunti, Peppe Marcheggiani, ci sono poi fotografi, altri scultori, insomma è una bellissima manifestazione. Io credo che un rilancio del territorio inteso in larga scala come il Consorzio BIM non può che passare attraverso l'arte, Ripattoni questa mattina presenta un progetto già noto, rinnovato nella sua parte diciamo proprio della bontà dell'arte stessa e quindi il BIM c'è e ci sarà un'iniziativa che merita l'ode per chi l'ha organizzata, i maestri, i professori, proprio gli artisti dell'arte mettono insieme una serie di condizioni che affascineranno tutti coloro che andranno a visitare Ripattoni in arte o arte come abbiamo definito oggi. Quindi l'invito qual è? È quello di essere a Ripattoni per ascoltare, vedere, guardare questa bella mostra che veramente ne vale il momento. Ha presentato l'evento a scopo benefico Miss e Mr. Dog, sfilata a quattro zampe che vedrà protagonisti sabato 23 luglio domani alle ore 21, i migliori amici dell'uomo. Il teatro dello show sarà Piazza della Rinascita per uno spettacolo davvero unico, il ricavato delle iscrizioni, possibili contattando il numero di telefono 393 8308 541, sarà infatti devoluto alla Lega Nazionale Protezione del Cane, sezione di Pescara. Il servizio. Assessore, torna allo spettacolo Miss e Mr. Dog a Pescara dopo il grande successo di Francavilla, si parla di animali e si parla anche di beneficenza in questo caso. Sì, è uno spettacolo che va tutto devoluto alla Lega del Cane, quindi ne abbiamo approfittato di avere questi nostri protagonisti, la Lima e la Raspa, dove faranno un grandissimo spettacolo e dove si andrà a sensibilizzare sia l'adozione e sia il non abbandono dei cani, perché con l'avvicinarsi del mese di agosto sappiamo tutti che abbiamo le nostre vacanze e molti purtroppo dei nostri amici vengono abbandonati. Noi lavoriamo per questo 365 giorni l'anno, è un lavoro continuo e costante e per noi è importante non solo sensibilizzare al rispetto degli animali, tutti, cani, gatti, anche tutti gli altri, ma anche, come diceva giustamente l'assessore, cercare di farli adottare. In Cane in Pescara ci sono tanti cani che cercano ancora una casa, per noi è molto importante che tutti la trovino, sappiamo purtroppo che magari tutti, tutti non la troveranno, però insomma se riusciamo a farne adottare il più possibile noi siamo sempre tanto contenti, il nostro obiettivo principale è quello. Dopo il grande successo di Francavilla, Miss e Mr. Dog sbarca a Pescara in Piazza della Rinascita. E caro amico siamo pronti a fare il botto domani sera, quindi vi aspettiamo numerosissimi perché ne vedrete delle belle con questa banda animati. Ricordiamo che il fine è sociale, ma passando attraverso l'ironia è il grande divertimento perché avremo tante cose da proporvi e tanti scoop. E per gli scoop passiamo la parola a questi qua, che se ne intendono. Vogliamo anticipare qualche scoop? Sì, allora abbiamo una coppia di ballerini acrobatici rock e non posso aggiungere altro. Cosa vedremo domani sera? Domani sera vedremo cose mai viste, che voi umani non potete neppure pensare. faremo i nostri sketch, faremo i classici personaggi abruzzesi. Domani vi aspetto tutti quanti domani e faremo veramente un casino. All'arena della Civitella di Chieti si è esibita LP, la cantante di brani di successo, tra i quali Lost on You. Vediamola e ascoltiamola nel servizio. Dopo il recente successo dei singoli The One That You Love e How Low Can You Go, è arrivata sul palco della Civitella di Chieti la musica di LP. Laura Pergolizzi, nome italiano per via dei nonni originari di Napoli, ma statunitense di nascita e in arte LP, si è esibita ieri per circa due ore davanti a un pubblico entusiasta che ha cantato e ha applaudito i brani dell'icona della comunità LGBTQ, anche se lei si definisce gender neutral. Inseparabile dal suo Ukulele, che ha portato in scena anche ieri sera a Chieti, ha già all'attivo sei album dai quali sono stati scelti i brani cantati ieri sera che hanno scalato le classifiche in tutto il mondo. L'arena della Civitella ha riaperto le porte alla musica di qualità, ha alcune date in luglio e poi ci saranno altre date in agosto. Intanto questa sera è il concerto DLP, dopo una serata dedicata alla comicità di Maurizio Battista. I prossimi appuntamenti saranno il 30 luglio con una serata discoteca all'Ostellario nell'ambito del festival dedicato a Compianto Finarelli e vedrà la partecipazione di DJ Ralf e animerà la serata del 30 luglio. Dunque la Civitella torna essere un punto di aggregazione per la città, ma non solo. Non solo per la città perché riscontriamo tante partecipazioni che vengono anche da regioni vicine e confinanti e di questo ne siamo estremamente felici sia per la città che per noi come museo perché oltre che come stellario si dà risalto anche alla struttura museale. Ci tengo a sottolineare che grazie a questa partnership con la Deputazione Teatrale siamo riusciti a realizzare queste serate che porteranno sicuramente, come dicevo poc'anzi, il lustro sia al sistema museale della città, nello specifico del Museo della Civitella, che anche alla città di Chieti. A causa della positività al Covid di Francesco De Gregori, che si sarebbe dovuto esibire stasera insieme ad Antonello Venditti, è stato rinviato al 10 agosto il concerto. Le modalità di rimborso per chi non potesse recuperare quella data saranno consultabili sui siti dei circuiti di vendita Ticket One e Ciao Ticket. Dopo lo stop causa Covid torna uno degli appuntamenti principi per gli amanti della cucina bavarese. Stiamo parlando del Festival della Birra e dello Stinco di Maiale di Villa Consalvi di Crecchio, in provincia di Chieti, in programma dal 22 al 24 luglio. La manifestazione è organizzata dall'associazione La Consalvina, che ha voluto fortemente il ritorno della manifestazione, giunta alla sua quattordicesima edizione. Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ed ora lo sport, un portiere titolare e un regista di centrocampo. Restano le priorità per il Pescara in questa fase di mercato. Il DS dell'Icarri accelera per Aloi dell'Avellino. Intanto domenica il Pescara se la vedrà, oltre che con l'ex Biarnason, anche con Balotelli, nonostante le sirene di mercato dalla Svizzera. Vediamo. A due giorni dall'amichevole di Palena contro la Dana Demir Spor, cresce la curiosità per vedere all'opera il Pescara di Alberto Colombo e i tanti volti nuovi di una squadra che però è ancora incompleta. In alcuni reparti continuano a mancare un portiere titolare e un vertice basso di centrocampo. E per questo il DS dell'Icarri continua a sondare il mercato alla ricerca delle migliori opportunità. Sul fronte portiere resta attuale il nome dell'esperto Mauro Vigorito, 32enne di proprietà del Cosenza, con cui ha perso il posto da titolare nel finale della scorsa stagione e non rientra nei piani dei Silani. Due fattori ostacolano l'operazione, l'alto ingaggio e il forte interesse di un'altra nobile DC, il Vicenza, squadra nella quale Vigorito ha militato dal 2014 al 2017. E' impredicato di cambiare aria Matteo Pissari dell'Alessandria, il giocatore è nei radar di Delicarri, ma ha un contratto in scadenza nel 2024, non rientra nei piani dei grigi, che però vogliono monetizzare dalla sua partenza. Nomi accostati da settimane sono anche quelli di Jacopo Furlan, di proprietà dell'Empoli, e Giacomo Venturi, titolare della Reggiana fino allo scorso anno, ma ora chiuso dall'arrivo di Martin Turk. Chi arriverà competerà il trist di portieri, con Daniele Sommariva, giunto dal Monza, e Andrea Daniello, in uscita dal Cagliari Primavera. Sul fronte centrocampo il Pescara ha presentato offerta formale all'Avellino per Salvatore Aloi, non è un play puro, ma può interpretare quel ruolo, quello che trapela da Mercogliano, sede del ritiro degli Irpini, e che Aloi è lusingato dalla proposta di Delicarri, ma deve trovare l'accordo con l'Avellino e non è detto che la situazione si sblocchi a breve. D'altro canto il Pescara continua a tenere d'occhio Andrea Ghion del Sassuolo, ma in prestito al Perugia. Intanto sono giunti in Abruzzo e sono in ritiro a Castel di Sangro i turchi della Dana Demir Spor, che come detto sfideranno il Delfino in amichevole domenica a Palena. Grande curiosità dei tifosi per la squadra allenata da Vincenzo Montella e nelle cui fila milita Mario Balotelli, subito atteso per dei selfie. Super Mario, su cui c'era il forte interesse del Sion, domenica dunque ci sarà, salvo accelerazioni di dinamiche di mercato. Il Pescara riabbraccerà l'ex Birkir Bjarnason. Tra i pilastri della squadra turca c'è anche il 38enne veterano Gokhan Inler, otto anni in Serie A tra Udinese e Napoli. I calendari di Serie C saranno sorteggiati a Roma martedì 2 agosto. L'ufficialità è giunta stamani attraverso una nota diramata dalla Lega Pro. Martedì 2 agosto al Conin Piazza Lauro de Bosis 15 a Roma. Lega Pro presenterà i calendari della prossima stagione sportiva. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 12. Scendiamo in Serie D. È iniziata lunedì la preparazione precampionato del Pineto. Tanti volti nuovi, alcuni a D. L'ultimo un paio di giorni fa con la cessione di Parlafante alla Juve Stabia. Grande entusiasmo per il presidente Silvio Brocco che non nasconde rinnovate ambizioni. Roberta Di Sante Conosciamo benissimo questo girone. Sembra che all'inizio le squadre siano un po' rallentate, poi invece si scatenano all'ultimo momento. Quindi è bellissimo affrontare questo campionato con entusiasmo. E sappiamo come gli altri anni ogni partita è una battaglia. Ed è difficilissimo battere gli avversari. Il Pineto parte anche quest'anno per fare un campionato di vertice, per cercare di fare bene. Ne sono stati fatti anche altri lavori qui di manutenzione allo stadio. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per una stagione importante. Sì, sì. Gli impianti prima di tutto. Non si può fare oggi calcio se non hai gli impianti normalizzati, ben curati, igienizzati. Ed è bello così. Dobbiamo dare una svolta. Dobbiamo imitare nazioni che sono avanti rispetto a noi, perché lo sport deve crescere così, con la bellezza del proprio territorio, del proprio ambiente. Può essere l'anno giusto questo per un salto tra i professionisti, Presidente? Io l'ho detto, a me piacerebbe che la Lega faccia la riforma e possa fare la famosa DD Elite. E lì mi piacerebbe tantissimo partecipare. Se poi dovesse venire qualcosa di più, ci organizziamo anche per affrontare qualcosa di più importante. Però, ripeto, è prematuro dire questo. Vediamo la squadra come si esprime. Vincere è un piacere di tutti, non solo dalla mia squadra, ma di tutte le squadre che partecipano a questo campionato. Alla fine vinca il migliore. Per quanto riguarda il mercato, dicevamo che manca ancora qualcosina. Il mister, che cosa dici, di che cosa ha bisogno? Chiaramente abbiamo fatto veramente tanto rinnovando. Se c'è da rinnovare e anche introdurre qualche altro elemento, certamente lo faremo. Lo faremo con piacere e con entusiasmo. In chiusura il volley, diramato il calendario ufficioso di A3 di Pallavolo. Si partirà il 9 di ottobre con le due abruzzesi separate. Nel girone bianco, Labba Pineto esortirà a Fano per poi giocare in casa contro il Sandonà. Nel girone blu, trasferta anche per la SIE Cortona a Roma, l'impavida sarà poi di scena davanti al pubblico amico contro il Modica. Ed è tutto per questa edizione del TG6. Vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili già on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.